Buonasera, volevo farvi vedere una cosa. Questo è un uomo e una donna. Come si scrive uomo e donna in ebraico? Uomo, ish, donna, isha. L'uomo è alef, da destra a sinistra, alef, yod, shin, donna, alef, shin, he, he. Se analizziamo bene la parola ish, uomo e isha, donna, notiamo che ci sono due letterine importanti. In ish abbiamo yod, di valore dieci, yad, yad, mano, e poi abbiamo he, 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 di valore cinque. E sappiamo che viene detto che la donna è la metà, vi ho detto, non è la costola. Ma è la metà, vuol dire che per fare la donna hanno preso la metà del hadam. Quindi noi siamo la metà del mondo, noi donne, ok? Ma, ma, analizzando bene, nel nome ish e isha, abbiamo le prime due lettere del tetagramma, del nome del creatore. Meraviglioso, eh? Meraviglioso. E' quello che unisce un uomo e una donna in questa luce meravigliosa che risplende in una coppia, che si unisce soprattutto in Shabbat. Ma se noi togliamo il nome di Dio, la presenza divina in una coppia, quindi yode, he, cosa abbiamo? Esh, esh, fuoco. Quindi una coppia che vive senza la presenza di Dio si brucia, è destinata al divorzio, alla separazione. Quindi, se volete far durare la vostra relazione di coppia, mettete Dio nella vostra vita, ma soprattutto nella vostra vita di coppia. Che la vera intimità è quella, non solo perché è importante la sessualità, ma è l'amore che lega un uomo e una donna con la presenza di Dio, del creatore. Perché proprio un uomo e una donna unito, uomo e donna uniti, sono capaci di creare la vita. Un bambino. Buonanotte, Laila Tov e Shalom, pace a tutti voi.